Il Presidente del Senato Grasso ha intervenuto nella presentazione del libro Geronimo Stilton, la Costituzione italiana raccontata ai ragazzi, realizzato dall'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza guidata da Vincenzo Spadafora. Quando la Costituzione è nata, ricorda Grasso, i padri costituenti erano avversari ma seppero unirsi mettendo da parte differenze ed egoismi nel nome dell'appartenenza ad una stessa base di valori.